La vidre di Caivano Francesco Accatullo Viene da Marzanise A 33 anni, alto 1,73 m A 63 kg alla bilancia, con un totale di due incontri Due vittorie, di cui uno primo del limite Accompagnato all'angolo dal maestro Raffaele Munno La dilettante, 150 incontri, 120 vittorie Due volte, medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo Campione del mondo a Milano nel 2009 All'angolo rosso, mister Statut Domenico Valentino L'incontro è previsto sulla distanza delle sei riprese da tre minuti È l'inizio della prima ripresa Raffaele 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti